che cosa mi attende laura tu che mi conosci bene che cosa mi attende dopo la morte cerchio medianico k attraverso marco entità guido passerini marito di laura quale mondo meraviglioso ti attende anche il piano astrale è meraviglioso sai dovrai soggiornare un po nel piano astrale dovrai espiare la tua ansia ma proverai tanta gioia quando te ne sarai liberata l'ansia ti seguirà nel piano astrale ti farà vedere delle ombre inquiete nei primi giorni del tuo dopo morte ma poi io riuscirò a guidarti tu non mi vedrai a meno che io non riuscirò a materializzare un'immagine astrale ma non so se mi sarà possibile però so che proverai una grande gioia quando capirai il senso di questa tua ansia quando capirai che nessuno soffre ingiustamente perché vedi tu ora lo sai ma non lo hai capito è diverso è diverso amore mio e credimi che se ti parlo in questi termini è proprio perché so come stai vivendo e quello che stai vivendo io devo devo parlarti così perché se non lo facessi se mi limitassi a darti la parola del compagno che ti ha lasciato e non ti dessi la parola di un amore che continua da una dimensione diversa con una consapevolezza più ampia io ti danneggerei più del peggiore degli avvenimenti che oggi può manifestarsi nella tua vita devo aiutarti parlandoti di te e delle tue grandi conquiste future